Un posto al sole, anticipazioni al 3 novembre, la vendetta di Ferri e Marina. Il racconto delle puntate di Un posto al sole, che andrà in onda del 30 ottobre al 3 novembre. Sarà incentrato principalmente sui personaggi di Feli, Marina e Lara da un lato, e Viola e Damiano dall'altro. Un pediatra che una volta aveva in cura Tommaso vede strani articoli su Lara e inizia a sospettare che il bambino abbia costantemente la febbre. Tra la provocazione della donna e una nuova terrificante scoperta, Feli e Marina ricominciano a progettare un piano per sbarazzarsi della donna. Lo raccontò a Roberto e Roberto ebbe conferma dei suoi sospetti. Intanto si apicina la festa di Halloween che il giovane Antonio organizza a Palazzo e purtroppo, l'occasione finisce per portare ad un altro momento di gelosia di Rosa nei confronti di Viola. Alla lunga dovrà accettare la perdita di Damiano. Intanto Viola intensifica i suoi piani per rompere con Eugenio, mentre Damiano deve decidere se portare avanti il suo piano davvero poliziotto intruso, oppure proteggere il suo vecchio amico Edoardo. Intanto sulla terrazza arrivano i turisti, desiderosi di godersi Napoli e chiedere consiglio a Raffaele. Mariela fa una scoperta scioccante che improvvisamente riaccende il suo conflitto con i gemelli di Cirillo. Diego scopre di più sua Ida e Nico viene a sapere della relazione di Manuela con Costabile e forse diventa geloso. Intanto Diana si rende conto che tra Nunzio e Rossella c'è qualcosa di più dell'amicizia.